Parlarvi nuovamente di 5 dita di violenza che io per primo ho risdoganato in Italia 30 anni fa quando ho iniziato a scrivere i libri sarebbe un po' una noia per me e anche per voi perché tanto il film lo conoscete, l'avrete visto se non l'avete visto correte ai ripari, vedete lo si trova in italiano anche se il doppiaggio è penoso io preferisco raccontarvi un po' di aneddoti a margine, ossia quelle cose che accadono intorno ai film e che a volte sono più curiosi, divertenti, spettacolari e avventurosi dei film stessi tanto per cominciare questo film aveva il titolo di lavorazione The Iron Palma, cioè la palma di ferro e poi fu cambiato perché mentre lo stavano per distribuire a Hong Kong i giornali locali cominciarono a parlare moltissimo di King of the Boxers che era il film in lavorazione di Bruce Lee e allora lasciò Brothers furbamente per capitalizzare su quel successo annunciato rititolò velocemente il suo film King Boxer che è il titolo col quale tuttora lo trovate elencato solitamente in qualunque libro o scheda sull'argomento ma il suo titolo ufficiale inglese resta The Invincible Boxer quindi di nuovo Bruce Lee aveva influenzato indirettamente il suo cinema e di conseguenza la Golden Harvest fu costretta a rititolare il suo King of the Boxers in Fist of Fury che noi conosciamo come Dalla Cina con Furore ma le cose divertenti non sono finite perché anche le formiche ci hanno la tosse quindi non è che il fatto che se i film fossero piccoli a basso costo e li facessero in serie significava automaticamente che andava sempre tutto bene perché il regista, il coreano Chan Chan-wa che nell'arco della sua carriera non farà moltissimi film ma poi lavorerà anche per la Golden Harvest, la casa di Bruce Lee con il film Broken Note con Angela Mao ma Chan Chan-wa che era un regista abbastanza professionale abbastanza rispettato in patria in Corea Corea del Sud ovviamente quando andò a lavorare a Hong Kong si trovò davanti a tutta una serie di cose che non gli piacevano chiedeva un certo tipo di costumi per il film e invece loro gli facevano avere i costumi di scarto di altri film che stavano già girando chiese il miglior maestro d'armi che era il leggendario Liu Xia Liang, Lao Karleong invece loro gli chiedero gli assistenti perché Liu Xia Liang era impegnato su un film molto più importante di questo e in effetti molto più bello che era Il drago si scatena, Boxer from Shantung quindi gli chiedero il fratello di Liu Xia Liang, Liu Xia Wing e Chan Chuen che tra l'altro sanno anche nel film come combattenti che erano bravi, bravissimi ma certo non erano Liu Xia Liang che insomma alla fine il regista schisse una bella lettera che in sostanza tradotta dal cantonese e dal coreano significava Caro Sho, vattene a fanculo due e tre quarti della casa di produzione tua io me ne torno in Corea cioè minacciò di lasciare il set Mona Fong intervenne Mona Fong era la braccia destra di Ran Ran Sho la vera artefice, quella che teneva i contatti con le varie truppe che poi diventerà anche la seconda moglie di Sho e insomma lo rabbonirono trovarono un punto di incontro e lui finì il film che rischiò di non essere finito perché non fosse stato finito poi probabilmente sarebbe cambiata la storia del cinema d'atti marziali già che non sarebbe mai uscito in occidente non avrebbe mai avuto il successo che ebbe qui in Italia prima e in America poi che uscì in gennaio e in America in febbraio e di conseguenza forse l'ondata del Kung Fu non ci sarebbe stata o ci sarebbe magari stata con un altro film non lo so ma insomma nessuno può saperlo altre curiosità a margine beh il produttore del quale adesso perché il film era una coproduzione coreana non era tutto hongkonghese metà del cast era coreano anche la troupe tecnica era coreana il produttore il coproduttore coreano il cui nome non mi ricordo ma non era Chen Chang-wa che era il regista un altro qualche anno dopo questo ci dovevano fare un film altro che fu rapito dalla Corea del Nord dal papà del dittatore che c'è adesso quello che sembra un supplico le braccia e fu rapito perché gli serviva un regista che girasse dei film per loro e siccome questo c'aveva una certa reputazione avendo fatto cinque dita di violenza lo sequestrarono lui e la moglie per costringerli a lavorare per loro e in effetti questo lo lavorò per loro poi qualche anno dopo in occasione di un festival dove andò in rappresentanza della Corea del Nord e adesso ve la sto raccontando in soldoni perché è un romanzo lui uscì dalla Corea del Nord andò a sto festival e chiese asilo politico cioè non tornò mai più e lasciò la moglie lì e vabbè comunque altri segreti per così dire di cinque dita di violenza ma in realtà più segreti sono cose che io non mi capacito di come non se ne sia accorto nessuno allora perché insomma che il film io non l'ho visto quando è uscito perché la vita dei 14 io avevo 8 anni l'ho visto per esempio la prima volta nell'82 in pellicola super 8 col proiettore quando si noleggiavano i film ma mi accorsi subito pur non essendo certo esperto come lo sono oggi che dentro c'erano due cose nostre cioè c'era un'intera scena presa dal classico western americano Shane il Cavaliere della Valle Solitaria uno dei film più importanti della storia del cinema tutta la scena dentro al saloon quando i provocatori versano il liquore in testa a Cinao che nel doppiaggio originale era Zhao Ji Yao in quello italiano ottimo l'ottima edizione italiana dell'epoca l'ottimo doppiaggio dell'epoca in cui l'Olie il protagonista era doppiato da Michele Calamera che poi diventerà il doppiatore di Clint Eastwood tutta quella scena era presa dal Cavaliere della Valle Solitaria e anche più in là quando a lui vengono massacrate le mani abbastonate era chiaramente un riferimento preso da Django di Corbucci me ne accorsi io che non ero nessuno e lo scrissi poi nei libri nei primi anni 90 e diciamo da quel momento in poi piano 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 diventò di dominio comune qui in Italia tant'è che oggi trovate anche in rete altri altri siti altre cose che lo dicono ma gli americani che non si accorgono che quella scena viene da un film loro e questa è una cosa che secondo me perché io non ne l'esti da nessuna parte nessuna recensione io su questo film ho letto di tutto nessuno rimarcò sta cosa e quindi questo dovrebbe farci vergognare un po' meno della nostra ignoranza degli italiani da allora perché c'era chi ci batteva ma era talmente evidente perché Chen Chang-wa il regista riscrisse il copione che era stato scritto da un Patrick Yeung qualche cosa che non era manco uno sceneggiatore del Kung Fu era uno sceneggiatore di film erotici sentimentali quindi ci dimise in mano lui per dargli un po' quei colpi di scena e quelle tante trame sottotrame che il film ha perché in effetti è uno dei film più come dire più complessi dal punto di vista della narrazione non è un film semplice da riassumere c'è una trama principale c'è varie sottotrame e e fu un grande successo quando ci credo che noi siamo stati proprio il primo paese dove ha sfondato o uno dei primissimi perché in America è uscito dopo di noi qua uscì il 26 gennaio del 73 e fece all'incirca fece all'incirca un miliardo delle vecchie lire diventando il film di Kung Fu di maggior incasso all'epoca qua da noi e in America poi uscirà un mese dopo farà 5 milioni di dollari ma tra l'altro come racconta anche De Laurenti nel mio documentario ma trovate forse anche che la pillola ho postata qua sopra il film non a parte che costò una miseria a comprarlo perché all'epoca nessuno voleva i film di Kung Fu costò 2500 euro 2500 dollari sia 5 milioni di lire italiane ma in Italia addirittura gli mandarono la copia in positivo la pellicola in positivo non il negativo da cui stampare poi le copie in positivo da proiettare nei cinema gli mandarono direttamente la copia in positivo dovettero ristampare fa il controtipo in negativo e poi dal negativo fa tutte le copie ma lo spiega bene De Laurenti nell'intervista che gli fece insomma non era un film nato sulla carta per essere questo grande successo che invece fu e che invece fu e in caso del doppio dalla Cina con Furore anche se a sua volta fu battuto di un pugno di milioni da Franco Franchi con Kung Fu dalla Sicilia con Furore che qua in Italia farà 888 890 milioni di lire una decina di milioni di lire in più di questo insomma quindi possiamo dire che Franco Franchi era il vero re del Kung Fu in Italia vabbè la trama è inutile riassumerla io preferisco parlarvi di quello che stava intorno al film allora vabbè giusto un accenno così il protagonista è questo ragazzo Cinao nel doppiaggio ottimo italiano figlio di due maestri uno che gli ha insegnato tutto e lo manda da uno più importante che gli insegna gli fa fare lo scatto di qualità ma naturalmente in vista di un torneo importante ma naturalmente ci sono i cattivoni comandati da un maestro malvagio che mira a far vincere il torneo al proprio figlio poi di contone ci sono killer incazzatissimi che arrivano dal Giappone ci sono cattivi mercenari che da cattivi diventano buoni buoni che invece tradiscono e diventano cattivi e vengono pure accecati per averlo fatto e fino a tutta una serie di regolamenti di conti finale che era in verità piuttosto arzico colata il film è ripeto non c'ha una sceneggiatura tirata via ma io voglio parlarvi del contorno perché le trame le trovate dappertutto tra l'altro tra l'altro non mi ricordo come si chiama il canale perché la mia memoria è quella di un 55enne ma se voi andate sul canale del mio amico Ema Kotov che c'ha un bel canale sul cinema asiatico del quale ho pure parlato magari lo metto nei commenti il link lui ha fatto un bel video fatto veramente bene come i miei raccontandovi la trama e diciamo le cose principali del film fatto bene anche proprio con gli spezzoni del film che io non so mettere io vi racconto il contorno vi racconto il contorno allora nel ruolo del vabbè all'inizio perché poi non è che uscissero quei titoli in italiano attenzione questo c'aveva due o tre nomi in italiano poi tutto il resto erano ideogrammi cinesi anche quei nomi in italiano uno non sapeva a chi corrispondevano quindi quando io poi negli anni 80 ho cominciato a cercare di fare le connessioni vedendo tutta sta roba rivedendole e cominciando ad affibbiare un nome ad ogni attore qualche volta sbagliando pure ma per me era era come aveva conquistato la luna ogni volta che ci riuscivo perché oggi basta che tu vai su internet e trovi ma all'epoca noi non sapevamo chi fossero questi quindi una rapida carrellata ci porta a nel ruolo del del leader dei cattivi Tian Feng che avevamo visto in quello stesso periodo in Dara Cina con furore scomparso nel ruolo del figlio debociato Tong Lam grandissimo attore che ha fatto tanta roba anche importante anche dal punto di vista autoriale importante nel ruolo del maestro buono il primo c'era Zhu Wen Guo che era anche l'insegnante il direttore della scuola di recitazione degli Shea Brothers nel ruolo di un lottatore di strada all'inizio riconosciamo Bolo Yang quando aveva il suo nome d'arte cinese che era Yang Zi non ancora diventato Bolo nel film di Bruce Lee di Operazione Drago nel ruolo del secondo maestro buono Fang Mien che appare anche nel coevo qui da noi La morte nella mano che in realtà era arrivato prima di questo e del quale questo è in sostanza un remake nel ruolo nel ruolo del mercenario giapponese il samurai Chao Sung che stava pure lui in La morte nella mano nel ruolo dello spione che dalla scuola dei buoni tradisce Nam Sukho ossia il cantante e attore coreano ribattezzato Nam Gun Fan a Hong Kong inglesizzato in James Nam che qui vedete anche in una foto più recente perché ancora Arzillo l'amico canta e ha pubblicato pure i suoi dischi su Youtube ma soprattutto divertente era la pletora degli stuntmen e di quelli proprio di contorno c'erano non so c'era Lo Wei questo stuntman ricorrente c'era Chan Choo-en che era anche il maestro d'armi insieme a Laogar Wing c'era Yukio Someno questo caratterista giapponese visto anche in Boxer Rebellion c'era Kim Ki-ju questo attore coreano visto poi in altri film ma i ruoli però più importanti c'era Chan Chan ossia il monaco che risveglia Dracula in La leggenda dei sette vampiri d'oro Chang Fen Chan anche questo è un altro di quelli che per dargli un nome me ci sono voluti anni perché l'avevo visto poi in un altro film con alcuni degli stessi attori che si intitolava Io sono brusole la tigre rugente era un ottimo caratterista stuntman poi ce ne sarebbero tanti ce ne sarebbero tanti ma dirli tutti è impossibile c'era anche il fratello di Wong Chung Wong Chung grande star degli Shaw Brothers recentemente scomparsa il fratello Wong Ching stava nel film come uno dei lottatori ma uno dei lottatori di lottatori si per questo era anche Che Yuen che vedemmo anche in Il braccio violento del Kung Fu morirà giovanissimo pure lui e fece anche il footage inedito di Game of Death quello che è stato recuperato in tempi più recenti in cui lui entra nella pagoda insieme a Bruce Lee e James Tien e c'era Liu Xia Wing che era anche il coreografo ce ne erano tanti e però i film non vanno spiegati i film vanno visti quindi guardatelo divertitevi perché 5 dita di violenza è veramente un film leggendario